Per quanto riguarda il bilancio di oggi, oggi registriamo il numero più alto di guariti mai verificatosi dall'inizio della gestione dell'emergenza, sono 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali ad oggi sono 205.463 con un incremento di 1.872 rispetto a ieri. Calano notevolmente anche le persone attualmente positive al Covid-19, il totale è pari a 101.551 con una diminuzione di 3.106 rispetto a ieri. Di questi 1.694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri e 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette da coronavirus è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono 81.708 pari all'80% del totale. Per quanto riguarda le vittime, oggi registriamo purtroppo 285 nuovi deceduti.